40 ai punti in classifica del Catania, 41 nei confronti di Lecce, Sampdoria e Cesena per via della classifica a Vulza, 6 quindi virtualmente ai punti di distanza tra i Rossoazzurri e i Pugliesi per effetto della differenza a reti, meno 12 per il Catania, meno 21 per il Lecce. La squadra di De Canio senza Di Michele è squalificato per tre giornate e domenica ospiterà il Napoli, già certo di un posto in Champions ma ancora in lotta per il secondo posto. Un risultato positivo a Brescia quindi potrebbe voler dire salvezza virtuale con un pareggio e la sconfitta del Lecce, matematica invece con i tre punti dei Rossoazzurri e la mancata vittoria dei Salentini. Numeri al momento con una sola certezza, un risultato positivo a Brescia senza guardare le altre partite in pratica chiuderebbe definitivamente la questione salvezza. Dopo il giorno di riposo intanto i Rossoazzurri torneranno in campo domani per una doppia seduta d'allenamento. Simeone dovrà fronteggiare le assenze di Alvarez e Ledesma scolificati per un turno dal giugno sportivo. A centrocampo quindi appare scontato il ritorno dal primo minuto di Francesco Lodi. L'asso nella manica di Simeone nelle ultime due gare. Due invece le possibilità per sostituire Alvarez. La prima è Schelotto in veste di esterno basso con un Catania spregiudicato e la difesa a tre in fase di possesso. La seconda possibilità e anche quella più probabile è che Simeone decida di mantenere inalterato l'assetto tattico della squadra sostituendo Alvarez con il rientrante Alessandro Potenza.